Buoni pasto per i lavoratori delle farmacie comunali dell'Aquila. È questa la richiesta che è stata avanzata dal sindacato CISL nell'incontro che si è svolto alla presenza del presidente dell'AFM, Giorgio Masciocchi, e delle altre organizzazioni sindacali. In discussione, oltre a questi ticket, anche la regolamentazione delle assemblee dei lavoratori e altri punti all'ordine del giorno. Elvezio Sfarra, responsabile CISL dell'Aquila, ha detto di aver sollecitato l'erogazione dei buoni pasto per i dipendenti FM che attualmente usufruiscono di un servizio mensa nell'Exompi, soluzione questa che pone più di un problema logistico, considerata la dislocazione, ha detto, di molte farmacie comunali. La dirigenza dell'AFM ha rigettato per il momento la richiesta di cui si tornerà a parlare nel prossimo incontro con i sindacati, motivando tale scelta con una questione di principio relativa alla stretta applicazione del contratto e come una scelta di cassa. Entrambe le motivazioni sono infondate, però, in calza Sfarra, a nostro avviso l'erogazione dei ticket in sostituzione e integrazione del servizio mensa consentirebbe invece un risparmio in bilancio, garantendo ai lavoratori di usufruire di un servizio migliore. L'AFM ha mostrato comunque apertura verso la possibilità di valutare una doppia dislocazione della mensa ad est e a ovest della città, per evitare ai lavoratori FM spostamenti eccessivi durante la pausa pranzo. La trattativa si è interrotta con la richiesta da parte delle organizzazioni sindacali della convocazione di un nuovo tavolo di trattativa per definire la questione dei buoni pasto, la regolamentazione dell'assemblea e del personale e altri punti all'ordine del giorno.